Si è spento questa mattina nella sua casa di Milo, in provincia di Catania, Franco Battiato. Il cantautore era nato a Ionia il 23 marzo del 1945. La famiglia ringrazia tutti per le numerevoli testimonianze di affetto ricevute. I funerali avverranno in forma privata. Inoltre, Franco Battiato era da tempo malato e si era ritirato dalla scena pubblica. I problemi di salute e anche una caduta dal palco poco prima dei suoi 70 anni nel 2015 hanno reso difficili quest'ultimo periodo vissuto fino alla morte, sopraggiunta appunto stamattina intorno alle 5 nella sua casa di Milo. Un grande cantautore, un grande musicista, compositore, regista, pittore, ma soprattutto un grande uomo.